Trescia, ho provato questa macchina PRK1 e l'effetto è stato strabiliante. Quando abbiamo fatto l'esercizio sulla chiaroveggenza che siamo entrati dentro di noi nelle nostre cellule, ho sentito ogni cellula del mio corpo vibrare. Poi man mano negli altri esercizi, ringiovanita, nella luce, un'energia immensa che usciva dalla macchina, dal centro dei tre cristalli e veniva direttamente nel mio cuore. Un'energia a fortice che entro proprio in amore, in gioia. È stato qualcosa veramente di meraviglioso. Grazie.